E' un riconoscimento al lavoro che abbiamo iniziato, un lavoro che ripeto serve molto al territorio, serve a garantire l'eccellenza dei nostri prodotti. Noi siamo laboratorio pubblico, non facciamo business, diamo garanzie. Il futuro delle imprese che vogliono investire nel mondo arabo, in Italia e oltremare, passa da Bari. Il Laboratorio di Analisi Chimiche e Microbiologiche Samer, collegato alla Camera di Commercio del Capoluogo Pugliese, è il primo ente europeo accreditato da Halal International Authority per le verifiche relative alla certificazione Halal, che stabilisce i criteri per l'idoneità di ogni tipo di prodotto, in particolare alimentare, alle esigenze dei consumatori islamici. Samer sarà anche un partner strategico per la Halal International Authority perché svilupperemo insieme una serie di progetti che andranno a favore dell'economia locale, delle aziende locali, pugliesi intendo, ma anche attraverso il sistema camerale dei laboratori daremo anche la possibilità alle aziende italiane, in tutte le parti d'Italia, di usufruire dei vantaggi della certificazione HIA. Un'opportunità per tutte le imprese del territorio, che hanno compreso le potenzialità insite in un mercato dalle prospettive estremamente interessanti. È tutto interesse dell'economia locale, ovviamente avvicinarsi a questo tipo di mercato, e la maniera più corretta per potersi avvicinare è ovviamente quella della certificazione. Certificazione Halal che non è soltanto per i prodotti agroalimentari, ma anche per gli alberghi, per l'abbigliamento. In effetti è intenzione della Camera aprirsi a questo tipo di certificazione per poter garantire anche non solo i prodotti agroalimentari, ma tutti i prodotti del nostro intero settore produttivo.